L'orgoglio, soprattutto è l'orgoglio che ci ha messo in movimento fin dall'inizio. Finalmente abbiamo raggiunto un obiettivo, meno da anni, ci siamo interessati, è avere una sezione giovanile di destra a Castelbuono, è un grande risultato. Chiaramente ogni risultato devono seguire risultati ancora migliori. Ecco, l'obiettivo, secondo me, principale deve essere, e lo sarà, che sia giovanità che Castelbuono non solo un motivo d'orgoglio per noi, che chiaramente lo è, ma anche lo diventi pian piano per molti altri giovani, che attualmente magari non si rivedono in questi nostri ideali. Tutto ciò sarà solo il frutto, chiaramente, del nostro operato, delle nostre azioni, perché ben sappiamo che ogni nostra azione non sarà altro che derivante dai nostri ideali, dai nostri pensieri, da ciò che oggi ci riunisce tutti noi, perché crediamo in valori sani e giusti, e vogliamo che la gente capisca, appunto, tramite le azioni, non tramite le parole, che si può agire in un determinato modo solo se si crede, e se vi è un input dentro di noi che ci fa muovere grazie a questi valori. E quindi dobbiamo puntare con forza e energia per fare in modo che la maggior parte dei giovani, che attualmente purtroppo non la pensano come noi, pian piano, vedendoci in azione, capiscono quali sono i valori su cui puntare, e poi passare alla propria vita.